Ho appena partecipato al Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica alla presenza del Ministro dell'Interno. Ho detto come la tragica esperienza di questa estate debba servire a tutti noi per definire una nuova strategia sul fronte degli incendi, un nuovo piano di azione, una nuova risorsa in termini umani, in termini strumentali e in termini finanziari.